Nella Cattedrale dell'Immacolata Concezione a Mosca, il 28 giugno, l'arcivescovo Paolo Pezzi ha ordinato diacono Kirill Gorbunov e consacrato sacerdote il diacono Igor Segeyev. Entrambi hanno completato gli studi nel seminario maggiore di San Pietroburgo. Nell'intervista rilasciata C. Paolo Pezzi ha ribadito l'importanza di un tale evento per la Russia perché se in paesi a prevalenza cattolica l'ordinazione di sacerdoti è un evento usuale che si verifica abbastanza di frequente e con un buon numero di candidati, diversa è la situazione dove i cattolici sono essigua minoranza. L'ordinazione sacerdotale è un mistero, non dobbiamo dimenticarlo. È un segno particolare della presenza di Dio in Gesù Cristo, nella sua comunità, nella sua chiesa. Tutto questo è correlato ai sacramenti, perciò è comunque un grande evento. In questo senso credo sia giusto sottolineare che questo è un grande evento. Lo ripeto, non dobbiamo mostrare euforia per il fatto che grazie a Dio abbiamo ordinato almeno un sacerdote, ma enfatizzare l'importanza dell'evento come tale. Il nunzio apostolico a Mosca, alcivescovo Antonio Menini, ha portato la benedizione del Santo Padre Benedetto XVI agli ordinandi. Grazie. 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 Grazie.